Buongiorno Davido, questa è una puntata flash in cui vi voglio soltanto ragguagliare sul fatto che domani, mercoledì 19 giugno, al Parlamento Europeo si discuterà e ci sono segnali che potrebbe anche passare quella controversa legge di cui qua avevamo anche già parlato denominata chat control, che si riferisce appunto al fatto che le istituzioni potrebbero controllare le chat, anche quelle criptate, quelle private, ma in una forma un po' diversa da quella di cui avevamo discusso e che poi era stata rimandata, che prevedeva proprio la rottura completa della criptografia con la lettura di tutti i messaggi. Adesso la forma proposta è un po' diversa, ma è comunque, mina comunque la privacy degli utenti e vi dico un po' di cosa si sta parlando, vi leggo un paio di articoli così magari potete condividere questa roba con chi è interessato. Allora non metto neanche la sigla, vado subito a farvi vedere l'articolo che ha scritto Patrick Breyer sul suo blog. Patrick Breyer è un europarlamentare tedesco, membro del Partito Pirata, eccolo qua, sapete che il Partito Pirata naturalmente è quello che combatte sempre molto contro questo tipo di leggi, questo tipo di sorveglianza digitale. Ecco, Patrick Breyer ha scritto molto sul chat control e ha scritto questo post proprio un paio di giorni fa dove mette in guardia sul fatto che domani appunto, ripeto, 19 giugno, in Parlamento Europeo si potrebbe discutere, potrebbe passare questa legge denominata chat control. Vi leggo un attimino cosa scrive lui, poi approfondiamo le nuove misure del chat control. Sembra che la presidenza belga del Consiglio Europeo farà passare domani, mercoledì 19 giugno, le misure denominate chat control. Questo conferma le preoccupazioni che i proponenti del chat control appunto, intendono sfruttare il periodo immediatamente successivo alle elezioni europee, durante il quale c'è una minore attenzione pubblica e in cui il nuovo Parlamento non è ancora costituito. Se chat control passa, diciamo, al Consiglio adesso, l'esperienza ci mostra che c'è un grosso pericolo che poi venga adottato alla fine del suo percorso politico. Ora, la buona notizia è che molti governi dell'Europa, insomma dell'Unione Europea, non hanno ancora deciso cosa fare. Tra questi c'è anche l'Italia, in cui non ho ben capito qual è la posizione. Comunque ce ne sono altri, Finlandia, Repubblica Cieca, Svezia, eccetera. Ci sono dei governi che hanno già perplesso, forti perplessità contro questa legge, che sono Germania, Lussemburgo, i Paesi Bassi, Austria e Polonia, ma questi non sono sufficienti per bloccare tutto questo percorso. Quindi, dice Breyer e il Partito Pirata, bisogna che i cittadini stessi agiscano, prendano l'iniziativa e ci sono una serie di campagne proposte proprio dal Partito Pirata da condividere con i propri politici. Vedete, per esempio, c'è questa cartella, che poi vi condividerò nelle note della descrizione di questo episodio, c'è una cartella proprio del Partito Pirata in cui ci sono del materiale e ci sono delle immagini in inglese e in tedesco che descrivono che cos'è la proposta e ci sono anche video, vedete, ci sono in tutti i linguaggi, questi ci sono anche in italiano, quindi se volete condividere un video in italiano sui social, per esempio, è questo qui, ecco, dove spiega un po' che cos'è questa legge e come funziona. Quindi qua ci sono un po' di animazioni che spiegano un po' che cosa funziona, che cos'è questa legge. Vabbè, ma questo è quello che riguarda appunto le pressioni e le call to action del Partito Pirata. Vi leggo un articolo che ho trovato su TechRadar in italiano dove Chiara Castro spiega un po' ancora meglio questa nuova proposta, come funziona e a cosa si riferisce. Dice la giornalista Dopo aspre critiche, i legislatori hanno abbandonato l'idea di consentire alle forze dell'ordine di accedere a messaggi di testo e audio, che era quella, era la prima proposta, no? Cioè, una rottura completa della criptografia, accesso a tutto il materiale delle chat. Ora l'obiettivo sono foto, video e URL condivisi. Tuttavia gli esperti continuano ad avvertire che la privacy dei cittadini è a rischio, quindi la nuova proposta, qua che apprendiamo, si riferisce solamente ai materiali multimediali, foto-video. Il Belgio, che fino al 30 giugno sarà capo del Consiglio d'Europa, ha proposto la nuova legge che rappresenta un compromesso rispetto a quella che è stata soprannominata legge sul controllo delle chat, quindi chat control, lo scorso maggio ed è ora in fase di revisione. Tuttavia c'è un cavillo fondamentale. Gli utenti devono consentire la scansione del materiale condiviso prima di essere criptografato. Se si sceglie di rifiutare la scansione, agli utenti verrà impedito di utilizzare questa funzionalità, quindi di fare upload delle immagini. Per capire bene questa proposta di legge, secondo me è necessaria una minima, minima lezione di criptografia in to end, quindi se state ascoltando in podcast vi chiederei di switchare, di passare al video per seguire un attimo questo diagrammino, questo schemino che vi faccio, che vi serve secondo me per capire meglio, altrimenti schippate questa parte, tornate all'audio, ma insomma, questo è uno schemino per farvi capire come funziona la sessione di messaggistica e di una chat tipo Whatsapp, ecco. Ci usano sempre Alice e Bob quando si deve fare esempi di criptografia, ok? Quindi Alice deve comunicare con Bob e cosa fa? Instaura una connessione tra i due device, tra le due app, che passa attraverso un server. Quindi vedete c'è una connessione Alice-Server-Server-Bob che mette in comunicazione i due. Cos'hanno Alice e Bob? Hanno una coppia di chiavi, una chiave detta pubblica e una chiave privata. Questa è come funziona la criptografia, no? Hai una coppia, la criptografia è una chiave pubblica, cosiddetta. Hai una coppia di chiavi. Questa chiave pubblica viene scambiata tra i due, quindi Alice conoscerà quella di Bob, faccio vedere così, quella di Bob viene inviata ad Alice, quella di Alice viene inviata a Bob. Quindi in un dato momento i due, quando instaurano una connessione, quando aprono una chat, conoscono le rispettive chiavi pubbliche. Perché serve conoscere le chiavi pubbliche? Perché attraverso la chiave pubblica tu puoi crittare un messaggio. Quel messaggio crittato con una chiave pubblica può essere decrittato soltanto dalla chiave privata che corrisponde a quella chiave pubblica. Quindi supponiamo che Alice scriva questo in chat a Bob, un messaggio di testo con ciao Bob e un'immagine di un gatto. Questa roba viene caricata sul device, quindi sull'app di messaggistica di Alice, per poi essere trasferita a Bob. Ma nel momento in cui viene caricata sul device, questa viene anche crittata con la chiave pubblica di Bob. Quindi da questo momento questo messaggio con l'immagine e il testo è crittato e quindi poi quando passa sul server e quando arriva al punto finale Bob, tutto questo è crittato e nessuno lo può decrittare perché l'unico modo per decrittarlo è avere la chiave privata di Bob. E ce l'ha solo Bob. A questo punto Bob usa la sua chiave privata, il messaggio viene decrittato e quindi Bob può leggere e aprire, spacchettare questo messaggio che diventa visibile solamente a lui sul suo device. Quindi capite che se l'Unione Europea vuole intervenire, scansionare questo messaggio, questa immagine, l'unico modo che ha è intervenire qui, prima che l'immagine venga crittata con la chiave pubblica di Bob. Quindi questo è il punto in cui interviene ChatControl. Ad Alice viene chiesto al momento dell'upload se è d'accordo, se acconsenta il fatto che questa immagine del gatto venga scansionata. Nel caso in cui la scansione ha riporti del materiale controverso, questo viene inviato come messaggio proprio all'istituzione, a chi controlla, insomma, per appunto segnalarlo. Altrimenti passa e va avanti. Se Alice in questo punto non acconsenta la scansione, questa immagine non può essere inviata e verrà inviato solamente l'immagine. Quindi naturalmente capite che se Alice non acconsente, tutta la funzionalità di invio di materiale multimediale viene tolta, quindi rimane soltanto il testo o la possibilità di fare chiamate. Questa, insomma, è come funziona più o meno la crittografia end-to-end. Credo che fosse una piccola spiegazione dovuta per capire meglio lo scenario, insomma, il contesto in cui ci si muove. Vi siete beccati di questa mini lezione di crittografia, eh? Il mondo tecnologico non ci sta. Anzi, Romain Dignot, che è Senior Public Policy Associate di Proton, che è un'azienda che si occupa naturalmente di privacy perché crea dei software che permettono di inviare mail crittate, ecco, lo descrive, oltre che una VPN, lo descrive a TechRadar come un palese tentativo di ingannarci. Questo compromesso della presidenza belga è un deprimente passo indietro rispetto alla posizione del Parlamento europeo, ha dichiarato Digno. Potenzialmente sottoporrà tutti i cittadini dell'UE a una sorveglianza di massa, minando i loro diritti fondamentali e non facendo nulla per affrontare la diffusione del CISAM online, né le critiche del Garante europeo della protezione dei dati e di innumerevoli esperti. Le app di messaggistica più diffuse come WhatsApp e Signal o i provider di email sicure come ProtonMail implementano una crittografia per garantire che i messaggi rimangano privati tra l'utente e il mittente, quindi end-to-end. Nemmeno il provider stesso può accedervi. La normativa non creerà alcun obbligo di decodificare o creare accesso ai dati crittografati end-to-end, né impedirà ai fornitori di offrire servizi crittografati end-to-end, si dice nella formulazione proposta. Ma si legge in questa nuova formulazione la normativa non creerà alcun obbligo di decodificare o creare accesso ai dati crittografati end-to-end, né impedirà ai fornitori di offrire servizi crittografati end-to-end. Quindi, come si pensa di implementare questa scansione del CISAM? Ci dice Chiara Castro, La chiave è la clausola del consenso dell'utente. Questo è il modo per rendere la scansione dei file multimediali condivisi privatamente non un obbligo, ma una scelta. Il modo in cui si pensa di farlo, tuttavia, assomiglia più a un ricatto. Se si vuole condividere una foto, un video o un URL con un amico su WhatsApp, è necessario dare il consenso, oppure limitarsi a messaggi di testo chiamate messaggi vocali. Quindi, dice Digno, non c'è consenso, non c'è scelta. Se gli utenti non accettano questa roba, saranno semplicemente tagliati fuori, non potranno inviare materiale multimediale. Proton non è l'unica a pensarla così. C'è un gruppo di oltre 60 organizzazioni, tra cui Proton, Mozilla, Signal, Surfshark, Tutta, insieme a più di 50 individui, che hanno firmato una dichiarazione congiunta per esprimere le loro preoccupazioni contro la nuova proposta. Un consenso coercitivo non è un consenso liberamente dato, ha scritto il gruppo. Se l'utente non ha una vera e propria scelta, si sente costretto ad acconsentire, o se in caso di mancato consenso, gli verrebbe di fatto precluso l'accesso al servizio. Allora, il consenso dato non sarà libero. Peggio ancora, gli esperti hanno anche avvertito che tali poteri intrusivi potrebbero finire per essere inadatti a catturare i cattivi. Questo perché i criminali informatici potrebbero semplicemente incorporare le foto e video illegali in altri tipi di file, ad esempio. Inoltre, come ha sottolineato Digno, i criminali utilizzano già i propri servizi per condurre attività illegali. Il piano per eseguire la scansione C-SAM proteggendo la critografia comprende anche una nuova disposizione di moderazione del caricamento. I legislatori cercano di implementare il rilevamento dei contenuti prima di essere trasmessi, quindi prima di essere crittografati. Anche in questo caso, gli esperti di tecnologia ritengono che questo approccio sia piuttosto un semplice cambiamento estetico rispetto alla proposta di legge sul chat control. La proposta originale, infatti, prevedeva la scansione Lato Client, un metodo che prevede che il dispositivo, quindi l'app, analizzi automaticamente il file alla ricerca di materiali illegali e poi gli segnali alle autorità. Ma oggi non esiste un metodo per farlo senza creare delle backdoor nella crittografia, che poi sono pericolose e che potrebbero essere sfruttate ovviamente da attaccanti. Ciò è ultimamente confermato dal fatto che il Regno Unito ha rinviato la disposizione sulla scansione del materiale C-SAM, appunto, prevista dalla legge sulla sicurezza online, fino a quando non sarà tecnicamente fattibile. E, se vi ricordate, ne avevamo parlato anche al podcast. Tuttavia, gli esperti sostengono che la scansione dei messaggi, anche nel punto di upload, vanifica il principio end-to-end, cioè la protezione completa tra ammittente e destinatario che caratterizza la crittografia forte. Inoltre avvertono che ciò potrebbe creare nuove vulnerabilità di sicurezza che potrebbero essere sfruttate anche da terzi. Qui c'è anche un tweet di Meredith Wittaker, che è presidente di Signal, che dice che Signal si oppone fortemente a questa proposta. Dice, non ci sono dubbi, se l'Unione Europea farà passare il certo controllo, allora noi lasceremo proprio il mercato europeo. E prosegue l'articolo. Questo è il motivo per cui le app di messaggistica sicure e crittografate end-to-end come Signal stanno già ribadendo che lasceranno il mercato dell'UE piuttosto che minare le protezioni della privacy. Durante una riunione tenutasi alla fine di maggio, la Germania e la Repubblica cieca hanno espresso perplessità sulle soluzioni di scansione proposte dal Belgio prima della crittografia dei messaggi. Anche Austria, Estonia e Lussemburgo hanno criticato la disposizione sul consenso dell'utente, mentre la Francia ha dichiarato di poter accettare la moderazione dell'upload nell'ambito del consenso dell'utente, ma ha chiesto che non venga girata la crittografia. Ora, come farlo però? Ancora non si sa. Nel complesso però, la Francia sembra più favorevole alla proposta e pronta a trovare un compromesso che possa andare bene per tutti. Anche per questo il sostegno di questo paese sarà decisivo per l'accordo finale. Per concludere, cita ancora Dignot, dice i cittadini dell'UE saranno trattati come colpevoli prima di essere dimostrati innocenti proprio dalle persone incaricate di proteggerli. E in una nota finale vale la pena notare che i legislatori intendono esentare dalla scansione del CISAM il personale dell'Agenzia di Intelligence, della Polizia e delle Forze Armate. Tra l'altro, dove sappiamo che non avvengono assolutamente abusi. Vabbè, adesso, a parte questo, questa era un po' una descrizione, un racconto di che cos'è questo chat control. Ripeto, vi lascerò il link al materiale che il Partito Pirata ha preparato, insomma, per un po' divulgare la questione chat control. Ci sono anche dei template di email pronte per essere inviate ai legislatori per far sentire la propria voce. Poi c'è comunque tutta una campagna stop chat control che è proprio stata avanciata dal Partito Pirata dove si cerca un po' di sensibilizzare. Adesso io non voglio fare proprio il totale sensibilizzatore, il totale schierato, però questi sono i fatti, questa è la proposta e mi sembra, insomma, che le motivazioni, le argomentazioni esposte dal Partito Pirata siano abbastanza condivisibili e quindi ve le condivido anch'io e vi ho letto questo articolo che spiega bene qual è lo stato delle cose e vi ricordo appunto che domani, che è mercoledì 19 giugno al Parlamento pare che si discuterà e potrebbe passare definitivamente questa, passare al Parlamento poi l'Iter non è concluso naturalmente però potrebbe passare al Parlamento questa proposta di chat control. Basta, vi ho voluto fare questa puntata così light perché insomma riteniamo l'argomento importante e degno proprio perché c'è proprio la scadenza di domani e basta quindi il link che vi lascio sono quelli che vi ho descritto prima quindi il materiale del Partito Pirata e noi con questo podcastone dove torneremo a parlare di news tecnologiche ci troveremo in un prossimo episodio ciao